Ecco qua, Avenida de Suecia Barrettino italiano Parcheggi moto ormai completamente insufficienti Una volta si trovava finché uno voleva adesso Mettila, la Vespa è con le marce Se dovete fare un tatuaggio, eccolo Luca che ha un negozio qui sotto Intenditore, ha anche una moto grande, di quelle belle Però sostiene, probabilmente giustamente Che la Vespa è quella con le marce